Una tabella di marcia dai ritmi serrati, due anni meno pochi giorni per adeguare i differenti regolamenti d'uso del demanio marittimo dopo la sentenza del Consiglio di Stato a sezioni unite riguardo all'applicazione della direttiva comunitaria Bolkestein che interessa i comuni costieri. Il Veneto deve avere capacità di proporre soluzioni che speriamo il Governo centrale abbia l'attenzione e la sensibilità di ascoltare affinché questo nuovo decreto legge sia una cornice a livello nazionale che dia poi alle regioni la possibilità di dialogare con i comuni per trovare le migliori condizioni. Qui il turismo è uno dei settori trainanti dell'economia della nazione e in particolar modo del Veneto e quindi deve avere naturalmente quel tipo di attenzioni affinché quelle professionalità che si sono create nel corso degli ultimi 50 anni abbiano la capacità di continuare a erogare quei servizi che ci ha fatto diventare leader a livello europeo. Se lo Stato non individuasse un regolamento comune entro il 31 dicembre 2023 una soluzione andrà trovata comunque da chi si troverà a gestire la patata bollente. Legare le fanno i comuni mediante i loro regolamenti se non c'è un quadro normativo statale ben possono comunque farle con i loro regolamenti applicando direttamente le regole europee senza il supporto statale ed è quello che penso faranno perché non permetteranno mai che scadano definitivamente le concessioni e che non ci sia attività economica sulla battigia e penso che questo sia di interesse di tutto il paese. E i comuni non stanno a guardare. La conferenza dei sindaci del litorale Veneto ha istituito un tavolo congiunto allargato alle associazioni di categoria del balneare e naturalmente alla regione Veneto. Noi abbiamo fatto una riunione con le categorie, abbiamo chiesto dei rappresentanti tecnici loro, degli avvocati, abbiamo ovviamente la partecipazione della parte politica cioè i sindaci o il loro assessore al demanio e abbiamo ovviamente dei tecnici, degli avvocati, abbiamo quindi la delega anche delle categorie imprenditoriali e ovviamente i nostri uffici oltre che il stretto contatto che vogliamo mantenere con Regione Veneto che ha una normativa di riferimento molto importante.